Sono davvero contento di essere qui, nel senso che sono contento di essere a questa inaugurazione perché insomma quello che presentiamo oggi, questo progetto, è un progetto che volevamo sentito, un progetto che tratta temi importanti, mette al centro la donna, sensibilizza sui temi della violenza contro la donna e quindi insomma sono temi forti che è giusto anche parlarne. Sono contento che si sia riuscito a organizzarlo pretta e furia perché dove è Giacomo, Alice che ringrazio ovviamente, sanno le difficoltà nell'organizzare tutto, i tempi ristrettissimi quindi questo mi fa davvero piacere, grazie anzi ad AERIS per tutto quello che fate. Sono anche felice di essere proprio qui, in questo luogo, al centro commerciale perché insomma come ci è stata data la possibilità di poterlo fare qui l'abbiamo colta, ringrazio il direttore Lombardi che ci ha dato appunto questa disponibilità, insomma anche questa era una di quelle volontà che come amministrazione volevamo portare avanti, cioè quella di proporre iniziative in tutto il terreno di rimercate, non soltanto poi ritrovarci sempre nei soliti luoghi ma trovare a parlare anche di temi importanti in luoghi come questi, dove si passeggia e dove si trova il tempo libero anche il sabato, quindi insomma è un modo anche per avvicinare le persone a temi importanti, quindi io ringrazio davvero tutti di nuovo e buona mostra, buona presentazione.